Le donazioni di sangue scendono in maniera vertiginosa, un'altra conseguenza della pandemia. Ad Andria il numero dei donatori è sceso in media del 20%. Lo hanno riferito all'incontro ufficiale con la sindaca Giovanna Bruno a Palazzo di Città, i vertici andriesi dell'Avis. Per questo il primo cittadino rivolge un appello alla cittadinanza. Marilana Pastore. E' un altro effetto della pandemia, la flessione impietosa delle donazioni di sangue che dura ormai da oltre un anno. Il numero dei donatori è sceso in media del 20%. Lo hanno riferito nell'incontro ufficiale con la sindaca di Andria Giovanna Bruno a Palazzo di Città, i vertici appunto andriesi dell'Avis. Per questo il primo cittadino ha voluto rivolgere un appello alla cittadinanza per moltiplicare gli sforzi e contribuire con la donazione di sangue alle attività ospedaliere legate a questo gesto così generoso. Per molti destinatari di donazione di sangue, spiega la Bruno, questo gesto rappresenta la salvaguardia della quotidianità, il mantenimento in equilibrio del proprio stato di salute. A loro si aggiungono poi tutti coloro che vivono condizioni emergenziali e che nella donazione di sangue possono anche ritrovare la speranza di vita. Dunque donare ha una doppia rilevanza che va sensibilizzata e incrementata. Ringrazio l'Avis per il costante lavoro svolto in tanti anni sul territorio, dice Giovanna Bruno, con l'augurio che progredisca ancora di più, recuperando pure il difficile periodo pandemico. Registriamo, ha rimarcato il nuovo presidente della sezione Avis di Andria, Nicola Berardino, una diminuzione della donazione di sangue abbastanza importante. A causa del Covid vi è una notevole riduzione del numero dei soci che donano e il nostro obiettivo è invertire questo trend negativo, anche se non ringraziamo mai abbastanza quelli che invece continuano a farlo. Il calo del 2020 è stato del 20% rispetto al 2019 ed è così anche in questi primi mesi del 2021. Quest'anno ricorre anche il trentennale della fondazione della sezione Avis di Andria e sono allo studio alcune iniziative celebrative che si spera si possano effettuare in sicurezza. Tra i primi impegni dell'Avis c'è anche la giornata mondiale della donazione che si celebra il prossimo 14 giugno. Quest'anno, ha spiegato la presidente uscente della sezione Avis, Maria Grazia Iannuzzi, speriamo di poterla effettuare dedicandola soprattutto alla città e al Comune e ai suoi dipendenti come è venuto nel 2019. Speriamo di poterla organizzare ricorrendo all'auto-emoteca posta nei presi di Palazzo di Città, altrimenti la celebreremo presso il centro trasfusionale dell'ospedale Bonomo invitando chi vuole donare a presentarsi lì.